Mi chiamo Luca Volpona e sono nato e cresciuto a Cagliari. Il mio problema è iniziato all'età di 15 anni, quando ho cominciato a vedere che i capelli stavano perdendo di forza e di lucentezza, avevano uno spessore molto più piccolo rispetto a prima. Poi verso l'età di 17 anni ho cominciato a vedere che stavo perdendo i capelli e che si stava formando un leggero diradamento nella parte superiore della testa e che stava andando a progredire nel tempo. Così ho cominciato a maturare l'idea di fare un trapianto che comunque mi sarebbe servito nel futuro se questo era lo sviluppo appunto dei miei capelli. Così ho cominciato a documentarmi, prevalentemente tramite internet, perché era il modo più appunto veloce per poter andare a indagare su eventuali trapianti e così ho appunto conosciuto l'Istituto Elbetico Sanders. Appena ho fatto la prima visita comunque hanno saputo subito dirmi che problema avessi, ovvero un problema di seborre, quindi avevo praticamente un tappo che non faceva ricrescere il cappello, anzi quelli che avevo già li faceva sottigliare. E questo era già un passo in avanti perché non sapevo che cosa avessi. Già dopo il primo mese della fase igienica, che è quella prima del trapianto, ho visto subito un miglioramento soprattutto nello spessore del cappello e comunque riuscivo già a coprire un po' meglio i buchi che avevo prima. E poi comunque andando in là con il tempo vedevo sempre un migliore aumento, un rinfoltimento e soprattutto un rafforzamento del cappello. Quando ho fatto l'intervento devo dire che ero un po' non dico spaventato, però un po' preoccupato, perché comunque si tratta di un intervento. Però lo staff comunque era stato molto professionale, mi ha scoperto tranquillizzare, alla fine era diciamo una sciocchezza, perché comunque loro sono giovani, mi hanno saputo anche intrattenere. E' stato divertente sicuramente parlare con loro durante l'intervento. Mi sono trovato molto bene, poi anche la struttura soprattutto, l'intervento è stato liscio, non sono stati problemi sicuramente. Sicuramente prima dell'intervento non mi piaceva esteticamente come mi vedeva allo specchio, perché comunque rispetto ai miei coetanei notavo appunto questa differenza, che loro avevano molti capelli o che comunque potessero tranquillamente passarsi la mano per i capelli, io no, perché se lo facevo magari si vedeva il diradamento, o comunque non potevo scegliere un'acconciatura diversa da quella che portavo, perché sennò si vedeva il diradamento e questo un po' mi crema un disagio, che ho appunto saputo colmare grazie all'intervento e mi ha dato anche una cosa di sicurezza interiore. Poi vabbè anche all'esterno non ho notato questo cambiamento comunque, sia in me, ma oltre al di là dei capelli, anche in me ero molto più sicuro, tranquillo, adesso per esempio posso andare tranquillamente al mare, un problema era che quando andavo al mare i capelli bagnati lasciavano vedere appunto il diradamento, adesso questo problema è stato tranquillamente risolto. Posso andare tranquillamente al mare a farmi un bagno senza appunto avvertire questo disagio rispetto alle persone che mi stanno intorno. Allora consiglierei l'Istituto Eveticos-Anders soprattutto per la professionalità dello staff, ma anche per la grande efficacia di tutto, non solo dell'intervento, ma di tutto l'apparato, soprattutto la fase igienica, che è la fase appunto prima dell'intervento, che mi ha aiutato prima a risolvere il problema dell'asse borrea e poi andare a risolvere appunto il problema dato dal diradamento. E sì, l'efficacia e l'efficienza sono appunto fattori chiave, perché già solo dopo un mese ho visto risultati che poi sono appunto andati ad aumentare, a progredire nel tempo, culminando appunto con l'intervento.